si compie tutto quando la luna è già alta in cielo si fece buio su tutta la terra scrivono i vangeli e il momento più intenso l'ultimo atto della passione di gesù la morte in croce la fine della vita terrena del nazareno re dei giudei la rappresentazione della passione morte del signore rivive a canosa di puglia secondo le tappe della tradizione cristiana prima la celebrazione della pasqua ebraica l'ultima cena con i discepoli la preghiera nel giardino del gezzemani il tradimento e l'arresto infine il processo davanti a pilato è lunga e faticosa la via crucis gesù flagellato attraversa le vie del centro si dirige lentamente verso il calvario il golgota qui è ambientato su una collina proprio come raccontato nelle sacre scritture al di sotto si è radunata una grande folla attende l'attimo in cui le croci vengono issate ecco l'uomo ecco l'agnello di dio che toglie i peccati del mondo